buongiorno sono le 8 del mattino noi abbiamo dormito lì qui vicino costas ci ha detto ci dovrebbe essere una piscina una pozza d'acqua a caldo piedi ok anche tiepida alla fine calda il freddo non esiste solo una concezione mentale mentale menta luca prima di colazione passeggiata nella natura bagno caldo tiepido tiepido andiamo sotto la cascata prepariamo i panini quattro chilometri da quella parte a piedi c'è l'aereo ci vuole circa un'ora ad andare un'ora a tornare a piedi oppure c'è questa navetta che per soli 15 euro vi porta lì però tutto dritto pianeggiante vale la pena camminare adesso andiamo a vedere la cascata di scogafoss poi andiamo a dormire a scogar no scagar che potrebbe essere l'oxus un'ora al freddo nella speranza che apparebbe non è un'ora al freddo nella speranza che appare il l'aurora boreale ma niente cielo limpido ma purtroppo nessun raggio verde